Allora, di nuovo ufficialmente benvenuti. Ho visto che stanno registrando, iniziamo un attimino con i saluti. Ringrazio i ragazzi che hanno organizzato questo incontro. Spero che a fine serata o mattinata, per chi non può trattenersi tutto il giorno, sarete soddisfatti delle informazioni che vi porto, alle quali, come ho accennato prima, siete liberi di credere o meno. Ho liberi di approfondire la ricerca, per conto vostro. Come saprete, qualcuno almeno lo saprà, arrivo dalla Sardegna, una terra antica che ha pagato un prezzo molto alto migliaia di anni fa, quando l'umanità incominciò a prendere una certa deriva, e quindi fu sommersa dalle acque, e dovete rincominciare da zero. E i tempi stanno per ripresentarci le stesse problematiche. Quindi bisogna anche prepararsi. Oggi sentirete tanti discorsi diversi, ma allacciati tra di loro, perché non c'è nessun settore che non sia connesso a tutti gli altri. E in effetti, giorni fa, quando mi chiedevo, quando i ragazzi mi hanno invitato, dopo aver partecipato a un'ampia conferenza in un'altra località, quando mi hanno invitato qui a Tolmezzo, che c'è stato il tempo per organizzare tranquillamente questa giornata, pensavo, come inizierò? Perché poi penso come iniziare l'incontro, ma poi puntualmente le cose vanno sempre in modo diverso. Quindi programmo, ma in realtà non attuo mai quello che programmo, perché arrivano dei segnali forti che mi danno lo spunto di quello che sarà il primo argomento. E in effetti anche qua è stato lo stesso. Penso, pensavo ciò, nel momento in cui pensavo ciò, scorrevo anche dei messaggi sui social per rispondere a dei contatti, e mi capita lo sguardo su un fatto che è accaduto qui, in queste zone il 6 di questo mese, dove un maresciallo dei carabinieri si toglie la vita sparandosi un colpo di pistola nella tempia. e succede in una località di cui adesso non ricordo la denominazione, ma che comunque è composta da due termini che iniziano entrambi con la lettera C, quindi CC, che è anche l'acronimo dei carabinieri. Scusate, fa un po' freschino, sto risentendo un po' della temperatura. E quindi ho pensato, ma guarda, caso, che caso non è, devo andare a Tolmezzo, l'Italia ha circa 8.000 comuni, e succede proprio qua un segnale, un segnale forte, perché dovete capire che le energie che scorrono a livello fisico si muovono anche a livello eterico. Quindi è un periodo di grandi battaglie tra le forze della luce e delle tenebre, e questo avviene nel fisico come nell'eterico. Quindi questi episodi di cui si sente sempre più spesso il verificarsi, è segno che proprio forze dell'anticristo stanno avanzando, perché siamo alla fine dei tempi, fine dei tempi intesi come fine di un'era, di un'epoca in cui queste energie si sentono un po' allo scoperto, in quanto comunque c'è un risveglio coscienziale a livello globale, e sentendosi un po' alle strette, agiscono anche in questo modo. Sono episodi che accadranno sempre più spesso, causati da diverse diversi fattori, quindi ne sentirete sempre più la presenza, che è un problema diffuso nella società, non solo nelle forze dell'ordine, ma a causa della crisi economica, ma anche sociale, politica, morale della popolazione, come c'è chi si spara un colpo di pistola, c'è chi si butta da un ponte, c'è chi fa una strage, c'è chi si avvelena, o chi si connette a una marmita, e quindi si toglie la vita, perché la debolezza della psiche umana, nel momento in cui la coscienza va a addormentarsi, il corpo viene pervaso a livello energetico da energie pesanti, che portano anche a gesti estremi. L'essere umano, che magari fino a pochi giorni prima, viveva una vita tranquilla, serena, o meno, non tanto serena, ma comunque una vita, tra virgolette, normale, con tutti i suoi pro e i suoi contro. Quindi questi episodi cresceranno. Tra l'altro, altro particolare che mi è caduto sotto gli occhi, è che i giornalisti, poi inconsapevolmente o consapevolmente, danno delle informazioni, queste informazioni vanno criptate, perché sono più livelli di comprensione, e quindi ci ha dato un'altra informazione su questo personaggio, che appunto faceva servizio in questo paese, e indica al giornalista che in passato ha prestato il proprio servizio anche in una località di Venezia chiamata Giudecca. Sicuramente sarà stato anche in altri posti, perché ci danno questa informazione, perché Giudecca, comunque richiama un po' il termine Giuda, e Giuda è, come tutti sappiamo, anche se poi non è vero, però storicamente ce lo fanno passare come un traditore, quindi c'è il tradimento. Quindi queste cose, analizzate nell'insieme, ci danno delle indicazioni. Il tradimento di chi? Non sto dicendo il tradimento del diretto interessato, anche se qua ci sarebbe da dire molto, ma il tradimento può dire tante cose. e in effetti le forze armate, o meglio, le forze di polizia in Italia attuano l'alto tradimento quotidianamente, perché sono poste a controllo della cittadinanza, non a tutela della cittadinanza, ma curano prettamente ed esclusivamente gli interessi di una corporazione chiamata Italy Republic of, che risulta essere una corporation iscritta alla SEC di Washington dal 1934 e spacciata come Repubblica Italiana, quindi Stato Democratico, ma così non è. Perché dico questo? Perché i fatti ce lo comprovano. Quali sono questi fatti? Qualcosa di caldo si può avere? Mi sto facendo letteralmente... Poi c'è un po' di stanchezza, scusate. Un tè. Perfetto. Allora, questi fatti incontestabili, ciò a caramella, mi impapino, sono prettamente due. Quindi, lo dicevamo, le forze dell'ordine non sono al servizio del cittadino, ma al servizio di una corporazione e fanno gli interessi della corporazione. In condizione di pace, uno Stato dovrebbe armare le proprie forze dell'ordine civili, quindi stiamo parlando della Polizia di Stato e non dei carabinieri, che sono una forza militare, dovrebbero essere armati con armamento 765, così come lo sono le guardie giurate. Invece, la Polizia di Stato è armata con 9x21, che è armamento da guerra, pur essendo una forza di polizia civile. ma non solo. L'indicazione maggiore che ci dice che l'Italia è ancora in una condizione bellica di conflitto attivo è esattamente la bandiera di colui che è il capo delle forze armate, cioè il capo dello Stato. La bandiera italiana dell'ufficio del capo dello Stato è bardata di frange dorate. Cosa significa questo? Andiamo a vederlo dal punto di vista normativo. Grazie. Vabbè, intanto che ha le slide. Allora, al termine della Seconda Guerra Mondiale, in base a degli accordi, più che accordi in posizione da parte degli Stati Uniti, in quanto l'Italia ha perso la guerra, quindi ha dovuto subire dei trattati e delle imposizioni, è diventata a tutti gli effetti una succursale degli Stati Uniti. Siccome facciamo a capo agli Stati Uniti, naturalmente anche l'ufficio del comandante in capo degli Stati Uniti, che è il Presidente della Repubblica, attualmente Trump, anche lui ha l'ufficio con la bandiera degli Stati Uniti bardata di frange dorate, che indica appunto lo stato di guerra perenne degli Stati Uniti ed essendo l'Italia una corporazione, una ramificazione degli Stati Uniti, accade esattamente la stessa cosa. Siamo noi quelli, eh? Ecco qua. Allora, tutto deriva quindi da il 1800 dagli Stati Uniti, che sono il coloro che gestiscono a livello mondiale l'organo di polizia mondiale, infatti sono sempre in guerra, non a caso, e qui vediamo la storia della bandiera americana, dove in alto a sinistra troviamo questa bandiera a stelle verticali, che era la bandiera civile degli Stati Uniti d'America, mentre quella a destra in alto è la bandiera militare, che è ancora tuttora quella in uso. Quindi gli Stati Uniti hanno due bandiere, come vedete sotto nella foto storica, quella era appunto la bandiera civile a bande verticali. E, oltre ad essere la bandiera militare, quella in alto a destra, quando lo Stato è in una condizione di guerra, allora viene bordato delle frange dorate. e questo ai sensi del quarto capitolo USC, comma 1, 2, 3, ordine esecutivo 1, 0, 8, 3, 4, firmato il 21 agosto del 1959 dal presidente Eisenhower. Ora, essendo l'ufficio del presidente Trump appunto provvisto di bandiera bordata, significa appunto gli Stati Uniti sono perennemente in guerra, così come succede in Italia. Questa che vedete al centro della bandiera italiana appunto bordata con frange dorate. Ora, non solo, ma gli ornamenti in base agli regolamenti militari, gli ornamenti sulla parte superiore dell'asta della bandiera sono per uso esclusivo militare. L'aquila reale è solo per uso del presidente degli Stati Uniti, è solo in tempo di guerra. La pallina d'oro è solo per i centri di reclutamento militare, la ghiandola d'oro è solo per le sfilate militari. Ora, come vedete, questa è quella italiana e riporta l'aquila in cima al pennone del Quirinale. Quindi, sta a significare che l'Italia è in guerra. Ma in guerra contro di chi? Voi vi chiederete. Contro? Esatto. Contro il popolo italiano. Perché, dopo la seconda guerra mondiale, essendo noi in realtà alleati non degli americani ma dei tedeschi, ed essendo che la Germania non ha mai dichiarato la propria resa, noi siamo a tuttora, essendo alleati dei tedeschi, sotto conflitto perché nessuno dei due ha mai dichiarato una resa ufficialmente. Quindi, noi siamo sotto occupazione militare da parte degli Stati Uniti d'America e le forze armate e le forze di polizia sono a controllo del territorio e di proprietà degli Stati Uniti d'America e sono contro il popolo italiano che è loro nemico a tutt'oggi. Quindi, questa è la reale condizione di un paese che noi chiediamo essere una repubblica democratica ma tale non è. La repubblica italiana o meglio la Costituzione italiana è un atto massonico composto da 75 padri fondatori e 75 nella cabala essendo i 75 padri fondatori tutti massoni o perlomeno quasi tutti ed essendo che la Costituzione è una è solo un documento aziendale di una corporazione che si chiama Italia Republic of o spacciata per Repubblica Italiana è un atto è un regolamento aziendale composto da 75 elementi perché 75 e non 73 o 74 o 76 o 77 perché 75 nella cabala è un numero associato all'oscurità e noi sappiamo che i nostri governanti lavorano per lo scuro non certo per la luce nel senso che tendono a mantenere una popolazione schiavizzata con una serie di procedure e tecniche occulte molto subdole con le quali ci tengono fondamentalmente in stato di schiavitù strumento maggiore della schiavitù è il denaro questo non solo in Italia ma in tutto il mondo tant'è che sia il dollaro sia l'euro ma anche altre divise monetarie riportano simboli prettamente massonici e uno dei maggiori è proprio il dollaro con la sua piramide ma è un'altra serie di decine di simboli il gufo e altri che sono tutti simbolismi massonici l'occhio niveggente e quant'altro che sono riportati nel dollaro ma sono riportati anche nell'euro basta osservarli saperli osservare perché le cose l'elite ce le mette davanti agli occhi perché essendo che l'elite ha delle conoscenze che vanno ben al di là delle conoscenze della comune mortale per una questione karmica di legge naturale dice sempre quali sono le sue intenzioni perché non ci obbliga mai a fare niente ma a spinger l'essere umano ad accettare tacitamente quelle che sono le proprie volontà quindi non impone mai niente ma fa sì che noi accettiamo le loro volontà quindi abbiamo capito che la Repubblica non è tale tanto è che all'articolo 1 cosa ci dice l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro allora vi chiedo perché non indicare fondata sulla fratellanza sulla collaborazione sulla cultura invece sul lavoro perché lavoro in latino significa fatica labor significa fatica quindi la Repubblica italiana è una Repubblica fondata sulla fatica di chi? la vostra perché chiaramente l'elite non lavora ma campa sulle vostre spalle ed è un parassita della società tutte le elite sono dei parassiti lo Stato non è tale se lo Stato fosse quello che noi pensiamo essere non dovrebbe pagare solo i propri dipendenti pubblici si chiamano appositamente dipendenti pubblici così come sono dipendenti cassieri di un centro commerciale voi siete i clienti del centro commerciale voi dovete essere spennati nei vostri portafogli perché se lo Stato fosse tale dovrebbe pagare tutti i cittadini perché tutti i cittadini concorrono al benessere della nazione invece paga solo i propri dipendenti pubblici che sono appunto dei parassiti che parassitano la vera società che lavora mentre gli impiegati pubblici consapevolmente o inconsapevolmente campano alle spalle di chi lavora veramente perché un'amministrazione che ci viene fatta spacciata come tale tale non è per tanti motivi di cui alcuni vi ho accennato poc'anzi altri vi accennerò però stamattina questa voleva essere una premessa e un'introduzione tanto per darvi uno shock iniziale perché voi pensate le cose sono una certa maniera in realtà non è così però la forza dei media asserviti al regime elitario ci propina delle informazioni quotidianamente che poi se andiamo ad analizzare scopriamo puntualmente che non sono mai e poi mai la verità ma fanno gli interessi dei potentati economici finanziari e non soldi quindi riprendiamo un attimino il cammino perché la mattina sarà improntata in realtà sull'economia perché il denaro è lo strumento di controllo che l'elita a livello mondiale applica per tenere le intere popolazioni sotto scacco e ne ha il pieno e totale controllo quindi quando sento parlare qualcuno che dice il mio conto corrente i miei soldi sta sbagliando completamente perché i soldi non sono i nostri e così come non sono i nostri conti correnti i conti correnti sono della banca e sono intestati nominalmente a noi ma sono di proprietà della banca la banca te lo può accendere oppure te lo può spegnere cioè aprire o chiudere ma non è tuo questo lo può fare in qualunque momento così come i soldi escono dalla banca in banca devono rientrare noi abbiamo un diritto d'uso momentaneo ma è un transito tant'è che oggi sappiamo che entrano facilmente nei nostri conti correnti per estrapolarci il denaro che noi pensiamo essere nostro ma così altrimenti non potrebbero toccarselo invece è loro è privato esce dalla banca in banca deve rientrare e il denaro è un po' come il sangue nel nostro corpo umano se il sangue ci viene estratto noi piano piano andiamo incontro alla morte cosa che sta avvenendo nella società perché più denaro contante estrai dal circuito monetario e più la società va morendo con tutte le conseguenze e non sto qui a raccontarvi perché le conoscete benissimo quindi se da una parte abbiamo una flevo che ci inserisce nel corpo umano un litro di sangue all'ora e dall'altra ne abbiamo una che ce ne toglie due allora noi ogni ora avremo un litro di sangue in meno e arriveremo sicuramente alla morte fisica la stessa cosa che sta succedendo nella società sta andando a morte certa perché abbiamo dato molto valore al denaro e ne abbiamo fatto un dio del denaro il dio denaro che è il dio che adorano adora l'elite non a caso essendo l'italiano la lingua più importante a livello giuridico perché tutto deriva dalla bibbia che poi ha prodotto il diritto canonico da qui tutti gli altri diritti a seguire quindi l'italiano è fondamentale il latino tutti i tribunali del mondo si basano sul latino e lo studiano perché la fonte del diritto utilizza il latino e il latino che poi dà di conseguenza l'italiano ci dice anche l'origine esoterica energetica di queste parole se riesco a farmelo vedere sempre per il fatto che vi ho detto che abbiamo tutto sotto il naso ed ecco qua denaro moneta uniamo queste due parole abbiamo la parola demon demone io sono il demonio ma è vero è vero perché con questo strumento l'elite controlla 7 miliardi di persone e siccome lo gestisce a modo suo noi siamo costretti a adorare di conseguenza ad essere complici di questa adorazione di cui potremmo fare a meno ma invece ci hanno messo in una condizione che non riusciamo più a farne veramente a meno di questo di questo qualcosa che utilizziamo tutti i giorni e abbiamo in tasca ma non sappiamo non ne sappiamo quasi niente del suo funzionamento se non quello che tentano di non farci capire attraverso i media raccontandoci un sacco di cose incomprensibili ai più perché non le comprendono neanche loro e con le quali noi puntualmente caschiamo e pensiamo che siamo in una crisi reale quando in realtà è una crisi indotta voluta decisa da un'elite che puntualmente periodicamente fa sì che ci siano queste crisi per avere sempre più controllo sempre più potere e portarci via i nostri beni che i nostri non sono e renderci sempre più schiavi e controllabili quindi dipendenti da questo strumento come lo fanno? Lo fanno portando diminuendo la circolazione del contante contante che a breve state tranquilli che scomparirà perché stanno abituandoci all'utilizzo di schede elettroniche ma non solo stanno costringendo che poi la costrizione non è mai tale ma in realtà è un'accettazione e una tacita accettazione da parte dei commercianti di munirsi di strumenti che vanno sempre più tendenzialmente verso sistemi elettronici con la diminuzione del contante in circolazione perché il contante entro breve entro pochi anni verrà eliminato quando tutti saremo dotati di post o di schede elettroniche o microchip e quant'altro e quindi il contante verrà eliminato dalla circolazione questo ci renderà sempre più schiavi di un sistema che per garantirci il diritto di avere una scheda elettronica e quindi un conto corrente ci costringerà sicuramente ad essere legati al possesso o meglio alla sottomissione ad un vaccino magari o antimeningite o quant'altro senza il quale non potremmo avere né conto corrente né carta di identità né passaporto vuoi viaggiare bene dimostrami che ti sei vaccinato vuoi la carta di identità con la quale apri un conto corrente benissimo dimostrami che ti sei vaccinato perché il vaccino perché per l'elite siamo troppi quindi se pensiamo che oggi chi comanda o meglio chi ci rappresenta un manicolo di criminali chiamati parlamentari sono coloro che fanno le leggi non abbiamo ancora capito nulla perché le leggi che fa il Parlamento non le fa in base alle esigenze della popolazione ma in base alle veline che arrivano da piani alti quanto meno bancari i quali indicano ai parlamentari completamente ignoranti e stupiditi scelti tra la fetta di popolazione più ignorante e più rincoglionita arrivano alle veline con le quali indicano quali devono essere le leggi che devono passare in Parlamento e quali no perché noi crediamo ancora a un Parlamento fantoccio in realtà chi comanda il Parlamento sono ben altri poteri ma siccome ci dicono sempre chiaramente chi sono e cosa fanno ce lo mettono davanti al naso sta a noi comprendere oppure far finta di niente e diventarne complici ecco qua chi comanda in Italia ce lo mettono in bella vista questo è il Parlamento ma per chi non sapesse cos'è invece quel simbolo nel piazzale del Parlamento è la menorah ebraica il candelabro ebraico dove le fiamme che corrispondono alle punte corrispondono all'interno del palazzo significa che la fiamma quindi il simbolo del potere la fiamma di Prometeo brucia all'interno del palazzo significa noi abbiamo il potere il controllo di questo luogo quindi non è il parlamentare che ci rappresenta ma è sempre l'elite mondiale ma ce lo dicono in tutte le salse perché noi andiamo a votare in quanto morti viventi chi vota è un cadavere che mette la scheda nell'urna si chiama così non a caso perché noi quando moriamo ci tumulano nell'urna quando mettete il vostro ditino con il vostro foglietto dentro quel cubo state votando da morti viventi e poi vi spiegherò perché perché voi siete convinti di delegare qualcuno che vi rappresenta ma in realtà il parlamentare non vi rappresenterà mai ma ve lo dicono a priori perché loro devono stare in onore per quello si chiamano onorevoli non pagano karma perché ve lo dicono prima che loro non vi rappresentano e non vi rappresenteranno mai e ce lo scrivono addirittura a chiare lettere in costituzione all'articolo 67 vi dicono che il parlamentare non ha obbligo di mandato significa che non ha nessun obbligo nei vostri confronti che lo avete eletto lui è l'eletto e voi vi siete spogliati di ogni diritto e di ogni autorità nel momento in cui delegate un'altra persona non avete più diritto di lamentarvi infatti chi manifesta in piazza è un branco di ignoranti che non ha diritti e merita solo di essere manganellato ma non lo dico con disprezzo nel senso che a livello giuridico non puoi lamentarti di un qualcosa che tu hai voluto se deleghi non puoi più lamentarti del risultato perché prima a monte ti è stato detto a chiare lettere che non hanno doveri nei vostri riguardi adesso mi prendo tre perché se no non arrivo a mezzogiorno permettetemi è un fuori onda siete abbastanza scioccati ed è solo l'inizio 67 della costituzione non possono non dirvi quello che fanno per una questione karmica pagherebbero karma invece dicono sempre quali sono le loro intenzioni sempre siamo davanti a una grande menzogna a 360 gradi in tutti i settori in tutti i campi medico giuridico politico scientifico le accademie le università sono in mano alla masoneria da sempre nel settecento la famiglia Medici istituì le corporazioni le gilde corporazioni versate nell'occulto ovvero la conoscenza è riservata solo ai pochi che frequentano questi ambienti che sono gestiti appunto dalla masoneria con i loro riti o rituali che derivano dal diritto canonico quindi dai riti rituali religiosi i processi sono nient'altro che delle messe in scena i rituali dove all'interno avvengono i loro riti o rituali non c'è niente di illegale o di legale c'è rituale o irrituale perché i tribunali non sono altro che la chiesa cattolica apostolica romana sotto mentite spoglie dove si esercita il culto di Baal e l'inquisizione romana in forma modernizzata ma siccome non possono agire nei confronti dell'uomo direttamente nell'uomo vivente perché io non posso avere autorità su un altro uomo e viceversa allora fanno cadere il tutto vi fanno spogliare dell'entità umana e vi fanno integrare nel soggetto giuridico col quale allora possono amministrarvi ma questa è una cosa che tratteremo nel pomeriggio loro celebrano i processi celebrano quindi non è che lo chiamano in modo diverso è come celebrare la messa tant'è che il prete il giudice ma anche il gendarme vestono con i loro abiti rituali neri che dimostrano solo ed esclusivamente il culto satanico dedicato alla fratellanza saturnana dedicato alla fratellanza saturniana col quale il loro dio saturno che è il pianeta più oscuro del sistema solare tra quelli visibili a occhio nudo rappresenta l'oscurità e il buio quindi pianeta delle prove il dio degli inferi questi sono i loro rituali magici fatta questa premessa allora riprendiamo un attimino il il discorso economico non abbiamo divagato e abbiamo ampliato e riprendiamo invece quello che è il discorso economico del dio denaro eccoci qua allora entriamo nel vivo del discorso economico visto che lo utilizziamo tutti i giorni vediamo un po' che cosa è e soprattutto che cosa era quando era un po' più vicino allo scopo che si prefiggeva inizialmente cos'è il denaro è un bene convenzionale cioè il valore intrinseco non c'è se non fosse perché noi lo accettiamo come tale lo scambiamo come tale potremmo scambiarlo con fagioli o lenticchie non sarebbe molto diverso però per convenzione accettiamo che questi pezzi di carta chiamati banconote abbiano un valore pari a quello che è il valore nominale cioè il valore inciso appunto sulla stessa e quindi non ha un valore intrinseco reale ma è appunto ha un valore convenzionale perché noi lo accettiamo come tale una volta era della collettività in questo caso nel nostro caso della Banca d'Italia quindi cosa succedeva quando lo Stato aveva il potere di controllo e di emissione della moneta lo stampava nei quantitativi necessari per il buon funzionamento del Paese e lo accreditava ai cittadini non c'era quindi debito pubblico non c'erano interessi non dovuti ma anche se ci fossero stati erano su se stesso quindi se io ho un debito su me stesso non ho problemi se ce l'ho invece nei riguardi di terzi il problema me lo devo porre quindi questo è com'era adesso invece com'è adesso non è più dello Stato non è né dello Stato né della Banca d'Italia o meglio qua poi chiariamo che non è proprio così ma è una moneta privata della BCE che però la BCE è sorretta dalle banche nazionali che a loro volta però non sono più pubbliche ma private e sono in mano alle banche commerciali quindi la Banca d'Italia ha le partecipazioni delle banche commerciali e ogni banca nazionale partecipa poi con la BCE alla creazione di questa moneta che è diventata la moneta europea trainante quella ufficiale che fondamentalmente è appunto privata e questo lo vediamo nella CE impressa sulle banconote che sta per copyright in quanto appunto è privata e di loro proprietà e noi ne abbiamo solo un diritto d'uso ora accenniamo un po' a qualcosa di storico che magari alcuni di voi sicuramente conoscono perché il professor Auriti nel non lontano 93 fu il primo a sperimentare una una moneta complementare il Sime che è così chiamato perché perché all'epoca il suo paese d'origine essendo poi lui un esperto di diritto perché insegnava tra l'altro all'università la Sapienza di Roma essendo che Guardia Greli all'epoca aveva un tasso altissimo anzi era in prima fila tra tutti i paesi italiani in quanto a numero di suicidi per la crisi economica del tempo in collaborazione col sindaco del suo paese decise di sperimentare questa moneta complementare il Simec e l'esperimento funzionò talmente tanto che in 48 ore risolse il problema della disoccupazione il problema della crisi economica in quanto come moneta complementare sempre per accettazione e per fiducia i cittadini accettarono di sperimentare questa moneta addirittura lasciando pochi al di fuori del circuito questi pochi si videro costretti nel giro di pochi giorni essendo che stavano perdendo finanziariamente economicamente clienti e quindi giro d'affari furono costretti anche loro automaticamente ad accettare di entrare in questo circuito che risolse in pochi giorni la crisi economica di allora con un semplice gesto con la stampa di un titolo di scambio che si chiamava appunto Simec fu talmente fastidioso questa sua iniziativa che la Banca d'Italia fece pressioni nei confronti dello Stato e lo Stato inviò la finanza in assetto antisommossa e fece sequestrare tutti i titoli e addirittura ci furono degli scontri con la popolazione di cui naturalmente non se ne parlo molto se non presso giornali locali poi all'epoca non c'era l'informazione come oggi internet e quant'altro quindi in poco tempo la cosa si venne a oscurare e se ne seppe qualcosa solo nei tempi avvenire quando come oggi abbiamo degli strumenti di informazione indipendenti che possiamo utilizzare quindi ecco fece molto clamore ma nel tempo nel tempo avvenire però la popolazione si risentì ecco perché ci furono degli scontri perché capì che aveva uno strumento di libertà e lo Stato invece che doveva tutelarli fece di tutto per costringerli ancora in una condizione di schiavitù sequestrando tutto e poi che poi finì tutto nel nulla perché in realtà non solo non c'era nessun reato quindi capiamo come agisce lo Stato che non è a favore dei cittadini ma è contro ma le denunce fatte nei confronti del professor Uriti cadero nel nulla perché non c'erano reati non solo non c'erano reati ma ad oggi i sindaci in realtà per legge possono stampare una moneta complementare locale cosa che non fa nessuno perché un po' per paura un po' per pressione quindi un qualcosa che per legge potrebbe essere adottato secondo il testo unico delle leggi che governano appunto i comuni non viene attuato praticamente da nessuno e sarebbe uno strumento col quale si potrebbe sopperire tranquillamente nell'arco di pochi giorni alla crisi economica quindi questo adesso capite cominciate a capire che le strutture piramidali dello Stato e tutto quello che segue fino al più piccolo ente che è il comune in realtà non fanno gli interessi dei cittadini ma fanno i propri interessi e lo sanno fare benissimo e lo fanno benissimo perché fanno cassa quindi devono fare quadrare i loro conti aziendali perché l'Italia è fondamentalmente un'azienda quindi questo in alto a destra come vedete è uno dei titoli dal punto di vista fisico del CIMEC non sto ad entrare adesso nei dettagli potete approfondire voi sulle azioni giuridiche che poi Auriti intentò denunciando addirittura il presidente della Banca d'Italia però adesso ci dilungheremo troppo altra cosa invece volevo segnalarvi fondamentale importante è di un altro professionista un ingegnere matematico che è il professor Bellia che vedete a destra del professor Auriti il quale dice una cosa molto interessante ancora oggi valida e cioè qual è questa cosa se uno stato se fosse tale e se funzionasse come dovrebbe possiede 100 perché crea 100 e distribuisce tutti i 100 nei vostri compagni facciamo un esempio io sono lo stato distribuisco un valore 100 tra voi cittadini però poi siccome me ne servono 50 per il funzionamento del mio apparato allora vi chiedo indietro le tasse che è uno strumento per recuperare del credito che mi occorre per appunto alimentare tutto il mio apparato statale bene allora se io sono lo stato e posseggo 100 nessuno mi impedisce di fare l'esatto contrario ovvero se io so che a me occorre 50 per far funzionare il mio apparato trattengo dai 100 i 50 e distribuisco a voi il restante 50 o l'occorrente se cambiamo l'ordine dei fattori il prodotto risulta identico cioè voi vi ritroverete sempre con 50 e anch'io ma non solo nel secondo caso è tutto molto più semplice ma eviterei ai cittadini di pagare le tasse perché non faccio questo che potrebbe essere diciamo uno strumento molto più semplice di gestione è per un semplice motivo che non è un problema matematico è un problema di controllo delle popolazioni perché costringere le persone a pagare le tasse è un sistema di controllo è un vero e proprio sistema di controllo che vi impegna mentalmente fisicamente energeticamente quando matematicamente io potrei risolvere tutto ciò con un semplice gesto invertendo appunto i fattori vi è chiaro l'esempio però non ci avevate mai pensato tante cose non pensiamo ci hanno disabituati a chiederci il perché e questo risale sempre non so come? non è un problema di fonti noi ci hanno disabituati a porci domande e questo avviene grazie alla società alla scuola alla famiglia innanzitutto eccetera perché ci disabituano a porci domande quando siamo piccoli ci facciamo domande tutti i santi giorni però veniamo pressati a partire dalla famiglia smettere di fare domande stai zitto non scocciarmi ho altro da fare allora esatto intimidisci quindi questo comporta che nell'età adulta accettiamo tutto per scontato quello che ci propinano gli altri ma non siamo più abituati ad osservare le cose e porci delle domande e darci delle risposte ma accettiamo le risposte altrui le diamo per scontate le accettiamo e le diamo per scontate quindi crediamo a tutto quello che ci dice per esempio la televisione che non è a nostro favore ma serve per indottrinare ma c'è di peggio perché una volta il denaro era legato all'oro anche questa però è una convenzione perché l'oro perché è deciso così poteva essere l'argento poteva essere lo stagno l'oro è un metallo nobile ok ci sta ma potevano scegliere il platino che ha ancora più valore però diamo per buono che così è e una volta in effetti in base al possesso di oro ogni nazione emetteva l'esatto quantitativo corrispondente di denaro che poi metteva in circolazione scambiava con altri stati e quant'altro ma non entriamo troppo nel vivo perché tanto nel 71 cosa succede? la Francia chiede agli Stati Uniti la restituzione dell'oro del proprio oro custodito nel cavo della Fed e gli Stati Uniti dicono alto un momento facciamo una cosa svincoliamo l'oro dalla moneta e ci teniamo tutto l'oro e così fu e Nixon approvò un ordine esecutivo col quale dal 1971 non c'è più il legame tra oro e il dollaro che divenne con gli accorti di Bretton Woods la moneta trainante a livello internazionale infatti lo Stato americano che poi americano non è ma lo vedremo nel pomeriggio può stampare quanti dollari vuole creare inflazione senza che nessuno possa opporsi dire niente perché comunque la Fed è privata non è degli americani come la Banca Italia è privata non è degli cittadini italiani e puoi mettere quanto denaro vuole in circolazione creando inflazione perché non c'è più il legame con l'oro quindi io anche se non posseggo come Stato nessun lingotto d'oro posso creare comunque dal nulla i dollari così come esattamente fa la BCE crea denaro dal nulla perché non c'è più il legame con un metallo prezioso o altro valore intrinseco poi nel 71 con gli accordi Bretton Woods crearono altre due associazioni criminali che si chiamano il fondo monetario internazionale e la banca il fondo monetario sì dico bene internazionale e la banca e la banca mondiale forse qui è invertito allora qui c'è una nota però sì soffermiamoci che l'emissione di denaro in circolazione deve essere regolamentata in base ai beni in circolazione premesso che anche gli individui sono beni sono i primi in assoluto ed è vero cioè qual è il bene in assoluto più importante su questo pianeta siamo noi se non ci fossimo noi non ci sarebbe niente creiamo tutto noi trasformiamo tutto noi giusto perché deve essere loro il bene più importante siamo noi siete d'accordo sono d'accordo anche loro perché in effetti loro poi vedremo che nel pomeriggio lo approfondiremo che creano denaro grazie ai nostri beni in garanzia i nostri beni intendo noi non i nostri i nostri beni in possesso siamo noi il maggiore bene e loro creano denaro grazie al nostro sudore alle nostre persone anzi o meglio ai nostri corpi che producono durante l'arco della propria vita generando titoli di credito che non sono altro che i nostri certificati di nascita che vengono creati all'anagrafe con i quali poi inserendoli in lotti vengono commercializzati a livello internazionale a nostra insaputa e del quale noi come corpo come individuo vivente siamo i beni in garanzia un po' come andare in banca a chiedere un prestito e dare la nostra casa in garanzia ecco loro crea gli stati crea che sono delle aziende e fanno cassa creano dei titoli che scambiano in borsa lo human capital e sono in realtà creati dai nostri titoli titoli legati ai certificati di nascita di quali noi siamo i beni in garanzia quindi gli unici a non sapere questo siamo noi gli unici a non capire che il valore vero siamo noi è che quando andiamo in banca a chiedere un prestito sono soldi nostri e autorizziamo il prelievo alle banche con la nostra firma quindi la nostra firma non serve affinché ci prestino il denaro ma autorizziamo il prelievo di quello che è il nostro valore dalle loro casse che vabbè poi qui se no ci apriamo un altro capitolo e lasciamo perdere qua è inutile soffermarci anche perché questi dati sono cambiati ci danno un po' l'indicazione di come funziona in realtà il sistema di quali sono le banconote le monetine circolanti di qual è la percentuale di denaro fisico che è il 3% il 97% sono numeri che girano sul computer come numeri sono quelli che la banca ci elargisce quando ci elargisce o accorda un prestito o un mutuo quindi praticamente digita un numero sul computer ci dà dei soldi almeno quelli che noi crediamo essere tali del denaro che in realtà noi non vedremo mai perché non esiste fisicamente indipendentemente se ce l'ha nei cavo o non ce l'ha però ci dà dei numeri con un click quindi va a segnare poi meno la somma elargita quindi fa risultare nei propri libri cassa che ci ha dato un qualcosa che in realtà non ci ha dato ma poi pretende da voi fisicamente la restituzione della pari somma cosa che comporta una diminuzione del flusso di denaro in circolazione quindi più prestiti e mutui chiedete e più indebolite e impoverite la massa monetaria e quindi create ancora più crisi perché loro non vi danno niente ma voi dovete dare indietro denaro fisico e lo pretendono il loro si chiama quello loro si chiama moneta scritturale invece voi dovete restituire moneta fisica ma per uno che restituisce chiude il mutuo altri tre non ce la fanno e vanno in fallimento e puntualmente la magistratura corrotta insieme alle banche criminali vi porta via la casa o i vostri beni con una vera e propria frode a monte quindi questo è quello che fanno le banche gli interessi ci sono molti altri problemi è chiaro che gli interessi sì l'argomento è molto più vasto qua entriamo no no è peggio no è peggio è peggio non esiste neanche quello che noi abbiamo lascia perdere gli interesse cioè quello che a noi viene allargito si chiama moneta scritturale voi la vedete solo come numeri sul vostro conto corrente ma fisicamente non vi hanno dato niente ma pretendono indietro denaro fisico il vostro sudore della fronte quindi cash banconote non potete restituire o meglio non potete qua poi si apre un altro un altro mondo però loro pretendono indietro denaro fisico ma non vi hanno dato denaro fisico quindi diminuisce la massa monetaria in circolazione più prestiti e mutui chiedete meno denaro c'è in circolazione tant'è che per uno che riesce a chiudere il mutuo tre non ce la fanno e perdono i propri beni in garanzia senza sapere che però la banca ha già preso indipendentemente da ciò essendo tutti questi prestiti e mutui assicurati ha già preso il pari importo in più quello che riuscite a restituirle voi e in più poi si prende anche i vostri beni poi cartolarizza non solo non basta vabbè poi la cartolarizzazione la vediamo dopo comunque sappiate che il denaro in circolazione rispetto a tutto quello che gira nei computer è meno del 3% quindi banconote e monetine sono il 3% di quello che gira in realtà nei flussi economici a livello internazionale poi naturalmente chi tenta di fare diversamente fa la fine di questi due signori qua perché entrambi tentarono di creare moneta di Stato essendo la Fed privata ed essendo il dollaro privato quando sia Kennedy e sia Lincoln tentarono di emettere banconote di Stato furono assassinati la stessa cosa che in Italia avvenne con Moro nel momento in cui stampò le 500 lire di Stato a corso legale poi avviene in tutto questo marasma come vi dicevo prima c'è il discorso della cartolarizzazione quindi la cartolarizzazione è di per sé illegittima ma viene attuata quindi abbiamo tre figure nella cartolarizzazione un creditore un debitore e la banca centrale europea il creditore e la banca commerciale che vi presta il denaro un certo quantitativo di denaro voi siete i debitori accettate le regole che il creditore ha imposto o ha proposto e vi impegnate a restituire pari somma di denaro sempre a livello fisico chiaramente poi c'è la BCE che mette il pari importo sempre tramite digitazione la stessa cosa fa la banca commerciale poi nei vostri riguardi però dice la legge che non è uguale per tutti come noi pensiamo che avendo chiesto il denaro a terzi non può agire nei confronti del debitore se insolvente perché ha perso il locus tendi ossia il titolo ad agire in giudizio cioè se io prendo un accordo diretto con ciascuno di voi non posso passare questo accordo a terzi affinché si risolva una diatriba quindi deve rimanere tra me e voi invece le banche cartolarizzano cioè vendono tra l'altro a bassissimo costo questi crediti ad agenzie di recupero che poi sono quelle che vi chiamano e vi minacciano praticamente essendo illegittime cosa fanno usano i metodi mafiosi quindi vi chiamano tutte le ore vi minacciano guardi che vengo sotto a casa sua deve pagare lei è insolvente è un delinquente quando i delinquenti in realtà sono loro ma sono molto a monte quindi i primi delinquenti sono la BCE ma anche gli stati collusi che permettono tutto questo avendo perso il potere di emissione della moneta cioè la sovranità la cosiddetta sovranità monetaria ecco qua questa è la C di copyright di cui vi parlavo prima che è impressa in tutte le banconotte emesse dalla BCE in quanto appunto è un prodotto coperto da copyright quindi è di esclusiva pertinenza della BCE non è un titolo al portatore come avveniva con le lire fino a un certo punto storico naturalmente e quando c'erano le firme dei funzionari di Stato e della Banca d'Italia allora possiamo andare avanti vabbè qua questa è una vignetta con la quale è quello che vi dicevo prima io tiro dei numeri ma se poi pretendo indietro del denaro fisico poi è chiaro che faccio fatica a fare i lavori di casa e poi mi vedo dalla casa sottratta perché non riesco a restituire il mutuo ed è una collusione vera e propria tra magistratura e banche perché c'è un ambiente criminale all'interno di questi settori da paura ci sono collusioni tra magistratura e banche cioè vi portano via qualcosa nonostante sia il prodotto di una frode evitate di chiedere prestiti e mutui perché sono una forma di strozzinaggio legalizzata e qui andiamo a vedere un attimino il discorso riprendiamo il CIMEC e tanti altri a cosa occorrere cioè quale sarebbe una soluzione un denaro complementare o dei titoli di scambio o comunque una forma accettata per dalla comunità accettata per il libero scambio quindi cosa comporterebbe l'introduzione così come fece Auriti comporterebbe maggiore ricchezza perché le risorse naturali non mancano manca la forma di scambio che agevoli questo scambio di beni e servizi e avremo uno sfruttamento delle risorse naturali corretto la capacità di trasformazione delle risorse poi la moneta complementare naturalmente dovrebbe essere soggetta a delle regole non imposte in questo caso ma decise dalla comunità stessa ci sarebbe una immediata ripresa economica e soprattutto la sottrazione dalla schiavitù perché se io sono sereno so di avere una moneta di scambio equa garantita non ho più il problema di dover alzarmi tutte le mattine alle 5 prendere la metro due ore poi due bus poi un pezzetto a piedi per arrivare al lavoro già stressato e stanco dopo aver dormito 5 ore e poi pensare che al ritorno dopo una giornata faticosa in un ambiente che magari mi piace dove non vado neanche d'accordo con i colleghi arrivo a casa alle 11 maggio vado a letto e sono uno zombie e sarò uno zombie per 40 anni poi vado in pensione se ci arrivo e dopo un mese sono morto perché ormai sono talmente addestrato a fare questo tutti i giorni che quando mi togli l'unica certezza della vita me ne vado al creatore tanti saluti se ci arrivo e se ci arrivo ci arrivo con le morroidi magari perché sto seduto tutto il giorno in un ufficio con lo stress con l'esaurimento nervoso con i calcoli al fegato e quant'altro questa è la vita che fa lo schiavo moderno perché noi siamo delle batterie energetiche e serviamo a qualcuno e dobbiamo essere così dobbiamo lavorare dobbiamo faticare dobbiamo sudare dobbiamo essere sempre incazzati con tutti e il lavoro serve a questo perché il lavoro non è vero che nobilita l'uomo ma nobilita colui che lo rende schiavo noi siamo delle pile e tutti i giorni alimentiamo un sistema sia dal punto di vista fisico economico e energetico siamo dei veri e propri schiavi e lo siamo tutta la vita ma perché lo accettiamo noi perché niente è mai imposto ma siamo noi che accettiamo questo stile di vita tant'è che viviamo nelle città e siamo anche felici di vivere nelle città ma siccome loro agiscono sempre in onore te lo dicono prima io ti faccio vivere in un appartamento felice e contento all'interno di un condominio quindi appartamento significa appartato dalla tua condizione naturale e nel dominio dell'elite condominio significa appunto dominato quindi sei appartato e dominato e sei felice e contento di vivere stressato tra fischi dei vigili urbani sirene di ambulanze file agli sportelli cemento e sei asfalto da tutte le parti ma sei comunque felice e contento di fare questa vita felice e tu contenti tutti soprattutto l'elite che fa sempre di più di accentrarci nelle città perché nelle città sei maggiormente controllabile e dipendi sempre esclusivamente da loro in tutto e per tutto a partire dai centri commerciali tramite i quali veniamo avvelenati quotidianamente con tutte le loro porcherie che ti stanno costringendo a mangiare sappiate che la comunità europea sta facendo pressione nei confronti dei governi Italia in particolare perché noi abbiamo un bel terreno fertile anche perché abbiamo il clima mediterraneo col quale stanno chiedendo ripetutamente e insistentemente a questi poveri idioti parlamentari italiani di approvare delle leggi con le quali ci vieteranno di avere anche l'orticello casalingo ma dobbiamo andare a comprare i loro prodotti velenosi e insieme ai vaccini al 5G a quanta scie chimiche e altro ci stanno facendo un bel servizietto voi direte ma stai dicendo un sacco di frottole bene allora siccome facciamo un piccolo apriamo una piccola parentesi siccome ci dicono sempre tutto ci hanno detto anche questo ma ce l'hanno detto in un sacco di modi che sono sotto gli occhi di tutti quindi per farvi vedere che non dico fregnace vi faccio vedere questo sito che è un sito ufficiale non lo dico io è un sito militare statunitense e ce lo dico con largo anticipo che intenzioni hanno se voi andate su questo sito in basso a destra deagel.com che è un sito ufficiale vedete militare andate qui alla voce paesi in inglese questo è tradotto è country abbiamo tutti i paesi del mondo tra cui anche l'Italia deagel.com allora se guardate la seconda riga ci dà l'effettivo numero di abitanti la popolazione italica italiana nel 2017 cioè solo due anni fa che corrispondeva a circa 62 milioni di persone ma ci dice che nel 2025 siamo nel secondo blocco in basso nel 2025 c'è la prima riga a sinistra siamo in calo e arriveremo a 44 milioni ma come scusate 20 milioni di abitanti italiani che fine fanno siamo solo nel 2025 quindi fra 5 anni è possibile che fine fanno 20 milioni di italiani esatto ma c'è di peggio questo è americano andiamo a vedere gli americani sono i più potenti sono loro che comandano andiamo a vedere cosa dicono degli americani gli stessi americani o meglio i militari americani della popolazione americana quindi facciamo un distinguo allora 2017 327 milioni nel 2025 100 milioni e non solo esatto nella Georgia Winston è vero ma possiamo tralasciare perché basta queste avanzi l'hanno scritto in tanti altri posti esatto però lo scrivono lo scrivono ce lo dicono certo lo dicono sempre ma noi siamo distratti e crediamo alle favole il grande fratello la De Filippi la partita di calcio la battuta di caccia il giro a cavallo tanto va tutto bene però non ci rendiamo conto che stanno morendoci attorno a tutti amici fratelli parenti chi è che non ha se non direttamente ultimamente intaccato da malattie particolari dalle quali ci si può difendere attenzione non andando a fare la chemia chiaro però c'è chi ancora ci crede è una selezione naturale pensate che gli unici paesi grandi che non subiranno nessun calo sono Russia e Cina come mai? fatevi le opportune domande e quindi e quindi no no questo è quello che faranno no no riusciranno no no riusciranno il punto è da che parte volete stare in quei 60 milioni o meglio in quei 40 milioni parlo dell'Italia grazie 40 milioni che resteranno o in quei 20 milioni che andranno via perché loro non sbagliano un colpo non solo non sbagliano un colpo ma fan sì che noi gli diamo una mano a fare a far che questo accada poi vi dicono come però i loro obiettivi li portano a termine può variare di qualche percentuale ma riescono sempre così come sono riusciti a innescare le guerre mondiali decisi a tavolino e finanziate entrambe le parti sempre dagli stessi personaggi voi pensate che quando l'Italia non era ancora Italia visto che io arrivo dalla Sardegna quindi esisteva il regno sardo-biemontese e prima ancora c'erano altre realtà ma parliamo del regno sardo-biemontese beh i Savoia già all'epoca prendevano soldi dai Rothschild dall'Inghilterra e dall'Austria per finanziare i propri conflitti e si indebitavano nei confronti di queste famiglie quindi il debito ha una lunga storia che non è solo quella della BCE o del debito pubblico ma c'è ben altro e ne prendeva talmente tanti che ha arricchito queste famiglie a tal punto che adesso sono tra quelle che comandano il mondo e decidono le sorti di interi continenti anzi del globo intero quindi il debito ha una storia molto più antica di quella che noi pensiamo essere la crisi economica degli ultimi decenni certo certo sì 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 questi sono campi FEMA la FEMA è un'agenzia americana sulla sicurezza interna in realtà è un campo di sterminio nazista o meglio sono tanti campi di sterminio nazisti ogni puntino è un campo FEMA dove sono oltre a essere recintati in modo tale che non si possa scappare dall'interno verso l'esterno e non viceversa sono depositi di bar in pvc milioni e milioni e milioni di bar in ognuno di questi puntini che voi vedete nel territorio nell'intero territorio statunitense e queste sono le bare pronte all'uso questo non deve spaventarvi nel senso anche la paura alimenta il loro sistema tant'è che se voi siete ancora abituati non so quanti di voi a guardare la televisione in particolar modo il TG il TG è un programma che deve abbattervi l'umore dobbiamo trovare soluzioni chi è qui è per trovare delle soluzioni perché se aspettiamo che siano loro a darcele stiamo freschi poi potete pensare quando eh addirittura sappiate che di iniziative di valute complementari ce ne sono bizzeffe in tutta Europa solo nel nord-est europeo ci sono più di 3.000 divise diverse c'è quella a livello rionale c'è quella a livello comunale c'è quella a livello intercomunale ma ce ne sono migliaia tant'è che nel nord-est Europa hanno avuto la necessità di creare un ente di coordinamento che si chiama CIA con due C eh non la CIA americana ah e lo vedete qua che si chiama cioè che è denominata Community Currencies in Action quindi valute comunitarie in azione che fanno sì fanno da coordinamento tra tutte queste valute complementari è un partenariato ecco fornisce insomma dei servizi e qui vediamo alcune di queste solo tra le più importanti qua ce ne sono solo alcune stiamo parlando del nord-est europeo ma ci sono iniziative anche in Italia chiaramente il punto è che se si rimane isolati se ne abbiamo troppe di queste iniziative creiamo sempre divisione che allora fa molto comodo a cui piace tanto dividerci perché divisi non riusciamo a contrastarli e quindi bisogna lavorare per trovare una soluzione etica unica e diffusa e lo stiamo facendo prima di andare oltre quindi analizziamo di nuovo il discorso del cardine attuale della crisi quindi cosa succede abbiamo detto che la banca la BCE presta soldi e non li presta ai cittadini li presta alle banche il salvataggio non avviene a voi non vi salva nessuno devono salvare le banche perché perché non hanno più moneta circolante sufficiente per garantire la sopravvivenza però sappiamo anche che la BCE presta soldi agli stati e gli stati sono costretti a restituire questi prestiti con gli interessi peccato che questi interessi non esistano quindi se io ho banca vi presto mettiamo che io sono la banca e voi siete gli stati vi dico va bene vi do 10 euro a testa e fra un anno me ne dovete restituire 11 fra un anno io vengo batto cassa voi mi dovete restituire 11 ma ne avete tutti 10 poi magari li avete scambiati uno ne ha 20 uno non ne ha non ne ha neanche uno ma dovete comunque restituirmi 10 più 1 ma se quell'uno non esiste come fate a restituirmelo è un sistema intrinsecamente inflazionistico che andrà a crescere nel tempo è impossibile ripagarlo questo è il signoraggio questo è il ricato che la BCE fa e soprattutto il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale nei confronti degli stati vi chiede indietro qualcosa che materialmente e fisicamente non c'è quindi non potete restituirlo ed è la stessa tecnica con la quale le banche commerciali vi portano via le case e i vostri averi poi ci sono altre conseguenze di riflesso perché voi dovete considerare anche che una banconota qualunque sia il proprio valore mettiamo una banconota da 10 euro più gira e più rende il suo servizio ovvero è il suo valore moltiplicato per ogni volta che viene utilizzata quindi se gira solo tra due persone in un passaggio vale 10 ma se fa il giro tra tutti voi è un 10 moltiplicato per ogni passaggio quindi in realtà se ognuno di voi avesse un credito e conseguentemente un debito di 10 io con una sola cioè tra di voi 10 tra ciascuno di voi se io metto nel circuito 10 e lo fate girare tra tutti voi con una sola banconota avete chiuso tutti i debiti rendo l'idea ma se io quelle 10 me le tengo perché ho paura di metterle in circolo siccome c'è crisi me la tengo nel cassetto non si sa mai ognuno di voi manterrà un debito di 10 nei confronti dell'altro che non verrà mai evaso quindi la crisi cosa fa? aumenta induce ad aumentare se stessa perché la paura fa sì che tratteniamo il denaro fermo quel poco denaro ormai circolante e quindi aumentiamo la condizione di crisi proprio per il fatto che non la mettiamo in circolo abbiamo paura di mettere in circolo e di spendere il denaro quindi questa è un'altra conseguenza poi ci sono le banche che fanno falso in bilancio cioè vi danno tot numericamente e lo mettono in passivo nel momento che voi però restituite fisicamente quel denaro loro vanno a pari perché se io banca vi do 100 e metto meno 100 quando voi mi date quei 100 se ci riuscite io vado a pari e metto 0 in realtà io ho più 100 perché è normale perché vado a 0 numericamente ma fisicamente ho 100 dove vanno a finire quei 100 in nero in investimenti in nero quindi è una grande frode e questa è una delle tante che fanno naturalmente lo fanno in un sistema complesso io ve l'ho semplificato ma questo avviene questo è allora noi abbiamo ideato tre anni fa una ci è venuta un'idea a un gruppo di persone abbiamo detto ma allora innanzitutto le regole finanziarie che vengono insegnate nelle accademie universitarie le ha studiate qualcuno le ha ideate qualcuno e vengono date però come certe nel senso che chi esce da un'università dà per scontato che quello che ha appreso in cinque anni sia la verità assoluta la maggior parte di loro tranne qualche animapia o mente eccelsa che ogni tanto viene fuori con delle idee rivoluzionari la maggior parte delle persone essendo indottrinata crede che quella sia la verità assoluta e unica e quindi quando si va a punzecchiare un po' presentando delle alternative la prima cosa dicono ah ma no è impossibile ma qui ma lì ma la teoria di questo la teoria dell'altro il calcolo matematico e tutte queste fesserie qua perché essendo indottrinati non riescono a vedere oltre il paraocchio come il cavallo gli mette il paraocchio vede solo davanti e non vede nient'altro a meno che non si toglie il paraocchio ma questo non lo dico io non lo dico solo io quindi prima di parlare di questa cosa qui vi faccio sentire invece i pareri di un esperto visto che io non sono un esperto e non ho neanche la laurea lo facciamo dire che è più convincente sapete quando la gente dice ah ma tu chi sei per dire ma è la laurea no io Laura non la conosco e quindi facciamolo dire a chi è amico di Laura e quindi sentiamo un attimino il parere di uno dei tanti esperti ecco uno di quei elementi accelsa che si è posto le domande che non si è limitato a prendere per scontato tutto quello che ha studiato nell'università scioccante provate a trasfigurare quello che ha detto del campo economico negli altri settori politico giuridico scientifico e così ovunque perché ormai è un dato di fatto che i medici insegnano bene fino al terzo anno quando studiano economia ma il quarto e il quinto gli insegnano ad avvelenare la gente cioè a prescrivere medicine non sto dicendo che è tutto sbagliato però sto dicendo che vengono indottrinati come veniamo indottrinati noi a partire dalla prima elementare anche io ho studiato il Garibaldi era un eroe poi ho scoperto che invece era un criminale e questo è valido per tutto perché la storia la scrive e i libri soprattutto li pubblicano le grandi case editrici che sono tutte controllate dal sistema quindi dobbiamo sapere quello che loro vogliono che noi sappiamo siete d'accordo su questo ma se siete qua voglio dire allora però dopo detto cioè detto tutto questo dice allora dal punto di vista economico ma poi abbiamo soluzioni anche peraltro abbiamo ideato un qualcosa e dato che quel qualcosa siccome noi non siamo indottrinati non siamo laureati e abbiamo la mente più aperta e siccome le cose sono molto più semplici ce le complicano per non comprenderle nella nostra semplicità abbiamo detto o meglio ci siamo chiesti ma dove sta scritto in quale legge naturale etica c'è scritto che se io lavoro per qualcuno che qualcuno mi deve pagare vi siete mai posti questa domanda perché siamo abituati che così è normale se io lavoro per voi mi aspetto che voi mi pagliate giusto? ed è scontato ma è veramente così? rifletteteci un attimo vi viene una risposta? no eh pensate quanto siamo condizionati è normale eppure è più semplice di quanto pensate io non riesco a tenere la stocca mi casca continuare chiediamo al te che così è così vabbè mi devo rassegnare allora vi aiuto se il tempo è vostro e l'energia è vostra perché dovete ricevere soldi da terzi? cioè ripeto se il tempo che dedicate è vostro l'energia è vostra anche se lavorate per me perché vi aspettate che debba essere io a pagarmi? non è questo il concetto che volevo esprimere però il concetto è un altro se il tempo è il mio se l'energia è la mia e il conto corrente è il mio in realtà non è così perché della banca abbiamo visto il denaro lo devo creare io certo ma questo è indubbiamente ma il denaro lo creo io non aspetto che sia il datore di lavoro a elagire la controparte perché questo si chiama schiavitù e ricatto noi siamo schiavi e ricattabili perché siamo costretti ad emusinare un lavoro e ci abbassiamo nelle nostre capacità nella espressione delle nostre potenzialità perché siamo costretti ad accettare anche lavori degradanti ma non tanto è una questione di degrado è una questione di accettazione in qualcosa per il quale non siamo portati perché questo sistema è fatto apposta per tenerci in questa condizione ma se il tempo è mio il denaro è mio il conto corrente è mio deve essere mio i soldi sono i miei ma me li creo io non aspetto che sia un altro a dover me li allargire perché sono io che sto trasformando la mia energia anche se la faccio per terzi vi torna è stabilizzante smonta tutto ed è proprio così quindi tre anni fa abbiamo registrato a Washington presso l'UCC sotto diritto internazionale un istituto bancario questo qui di cui garante il tribunale popolare è sorto anche lui sotto il diritto naturale tre anni fa in Sardegna quindi registrato presso il tribunale popolare presso l'UCC di Washington quindi sotto il diritto nazionale la banca d'Italia ha contestato il nome banca perché secondo le norme bancarie che non sono norme giuridiche comunque che rientrano nel diritto positivo da parte di organi giudiziari italiani ma di un ente privato ha contestato il nome banca e noi abbiamo risposto che siccome è un ente internazionale esula da quelle che sono le normative nazionali quindi ci chiamiamo come ci pare infatti l'UCC che poteva rigettare la registrazione non ha detto niente quindi dopo un mese vuol dire che la registrazione è ufficiale e perciò l'ente è operativo come funziona questo ente con quello che vi ho appena detto e cioè che ognuno che partecipa all'interno o parteciperà perché non è ancora operativo all'interno di questo circuito emetterà il proprio denaro o meglio trasformerà le proprie ore di prestazione d'opera evitiamo di chiamare un lavoro che il lavoro sappiamo che significa fatica non siamo venuti per faticare a questo mondo ma per esprimere le nostre capacità quindi si caricherà automaticamente il proprio conto corrente perché è così che deve essere indipendentemente dal fatto che il lavoro per me per esempio posso esprimere le mie potenzialità nella creazione di un quadro un quadro che poi tutti avranno la possibilità di osservarlo e di apprezzarne la tecnica pittorica oppure un brano musicale oppure invece magari vado a lavorare e raccogliere il grano dall'amico mio Giovanni che mi ha chiesto un aiuto ma Giovanni non si deve preoccupare di cacciare fuori i soldi di tasca il valore mio lo trasformo io e quindi qui succede che cosa? che prima di tutto ci liberiamo dalla schiavitù seconda cosa dal ricatto terza cosa possiamo scegliere quando, dove e come prestare la nostra opera e farne anche più di una e goderci un po' più la vita perché in realtà veniamo liberi ma ci schiavizzano un attimo dopo e poi questo lo vediamo meglio nel pomeriggio ma non solo se io ho bisogno di collaborazione mi devo preoccupare non posso preoccuparmi e pensare non ho abbastanza fondi per cui non posso chiedere collaborazione e la mia attività va in malora perché chi viene a darmi una mano lo fa innanzitutto perché ha piacere di fare quell'opera e in secondo luogo perché automaticamente si ricarica il proprio conto corrente e io non mi devo preoccupare di passare il mio valore in questo caso oggi è l'euro nelle tasche di altri questo sistema così va a tenere automaticamente sotto controllo sia l'inflazione sia la deflazione con tutti i vantaggi di cui vi ho detto prima che sono anche più importanti ma non basta perché così facendo se il prodotto viene arriva sul bancone per ora abbiamo parlato di servizi quindi facciamo l'esempio del prodotto finito quando il prodotto arriva sul bancone di vendita qualunque tipo di prodotto non interessa a nessuno che venga venduto o meno quel prodotto perché l'intera filiera si è già ripagata solo per il fatto di avere contribuito affinché quel prodotto venga realizzato finito e messo in vendita compreso il negoziante che per il solo fatto che deve stare sul bancone a servire il pubblico si segnerà sul proprio conto corrente le ore che ha dedicato allo scopo quindi esula dal fatto di vendere o meno il prodotto perché tutta la filiera ha già abbondantemente ricaricato quotidianamente il proprio conto corrente nel momento in cui il prodotto viene venduto non c'è un passaggio di valore dall'acquirente al venditore ma ci sarà un decurtamento del pari valore dal conto corrente dell'acquirente quindi se io acquisto un prodotto che vale 100 non passo 100 dal mio portafoglio a quello del venditore del negoziante ma ci sarà un decurtamento del mio pari valore dal mio conto corrente meno 100 e nel momento che andiamo al creatore il conto corrente si estingue automaticamente insieme all'energia che lo ha creato quindi all'individuo all'essere umano che all'uomo o la donna che è la titolare di quel conto così si può mantenere un flusso costante della della massa monetaria chiamiamola così impropriamente in circolazione perciò non c'è un passaggio ai redi il conto è mio e l'energia è la mia si estingue con me col mio trapasso il valore dei beni sarà dato dalla sommatoria di tutti gli interventi a partire dall'estrazione del prodotto alla trasformazione trasporto in vendita e quant'altro quindi i prodotti avranno lo stesso prezzo ovunque questo è l'obiettivo che ci prefiggiamo e in cui molti credono e di cui molti economisti dopo non aver dormito per tre notti perché non riuscivano a capire quando si sono risvegliati dopo un incubo ci hanno fatto i complimenti perché ci hanno detto in effetti non potevamo arrivarci tant'è il nostro condizionamento cioè non la cosa non l'avremmo mai pensata eppure è di una semplicità disarmante è un nuovo paradigma economico se vogliamo sopravvivere a questa crisi naturalmente il progetto funzionerà nel momento in cui già un certo numero di persone parteciperà a questo nuovo paradigma se c'è riuscito il bitcoin a fare la strada che ha fatto nel giro di pochi anni che non ha niente a che vedere con questo progetto non vedo perché non ci possiamo riuscire noi ora io ieri l'ho presentato a Trieste o meglio l'ho presentato in più conferenze sono venuto nella penisola per presentare per presentare per fare queste conferenze sul risveglio e poi per presentare la banca e il tribunale del tribunale parleremo nel pomeriggio perché comunque il tribunale è garante di questa iniziativa abbiamo raccolto già decine di adesioni e anche dei fondi perché ho provato per tre lunghi anni col gruppo di lavoro con un impegno gratuito a tentare di fare l'applicativo perché per far funzionare questo sistema serve un'applicazione internet che purtroppo bisogna pagare in euro ci ho provato gratuitamente chiedendo l'ausilio di tecnici informatici che però a vario titolo ne sono passati tanti a vario titolo iniziavano e poi abbandonavano per problemi sopraggiunti o per insomma per un insieme di motivi per cui cosa succedeva che raggiunto un certo livello quando c'era lo scambio dei tecnici eravamo costretti a ripartire esattamente da zero o perché il linguaggio macchina non andava bene a chi subentrava insomma per un insieme e un'infinità di problematiche eravamo costretti a ripartire sempre da zero questo ha portato al terzo anno a non avere addirittura arrivare a un certo punto dove l'ultimo tecnico dopo l'ennesima sostituzione abbandonato ci siamo trovati senza tecnici e ho detto va bene ho capito così non si può fare perché non siamo tutti uguali e non tutti ci prestiamo gratuitamente per un ideale al quale crediamo allora mi sono detto qua si può fare solo una cosa incominciare a fare conferenze e raccogliere dei fondi stiamo lavorando anche a una parte una parte fisica cioè di titoli cartacei quindi ci stiamo lavorando in questi periodi grazie a delle alleanze a dei progetti che si stanno unendo in modo da dare più forza sia dal punto di vista informatico sia cartaceo a questo progetto evitare che nascano troppe iniziative separate ci stiamo cercando di farne una forte che abbia un interesse veloce che raggiunga subito un bel numero di partecipanti è previsto un reddito di esistenza che naturalmente sarà uguale per tutti sarà elargito a tutti dalla nascita alla morte sono previsti cinque livelli retributivi chi li decide i partecipanti nel momento in cui ci sarà l'iscrizione ciascuno andrà a scegliere in quali dei cinque livelli pensa che sia corretto inserire la propria attività o le attività possono essere più di una e poi sceglierà a random altri 4-5 categorie lavorative ci sono tutte chiaramente tutte quelle ufficialmente riconosciute compresa la casalinga che abbiamo inserito noi perché non è prevista dalle liste ufficiali e quindi l'insieme delle votazioni andrà a stabilire perché sono tutti i calcoli che il sistema andrà a elaborare automaticamente quindi i vari settori lavorativi rientreranno in una delle cinque categorie in base a quelle che saranno le preferenze espresse da tutti gli iscritti sarà sufficiente poi a livello locale trovare un circuito inizialmente chiuso di tutte le possibili le possibili figure lavorative per riuscire a cominciare a ingranare e a far partire questo discorso che è ambizioso possiamo dire è molto ambizioso però visto che è il primo accennato discorso affrontiamolo perché energeticamente è importante cioè se ci andate a pensare per tre anni un manicolo di persone stavamo quasi imitando la massoneria tutto chiuso attenzione non diciamo niente però le cose energeticamente hanno la loro prima partono a livello energetico poi si sviluppano livello mentale si crea le gregore in positivo o in negativo e poi si sviluppa in terza dimensione diventa materialmente il progetto prende forma nel momento in cui siamo stati in gruppo ristretto non diciamo niente attenzione aspettiamo a divulgarlo non è partito una beata fava non è partito niente adesso che abbiamo aperto si stanno muovendo un sacco di energie perché si sta incominciando a creare le gregore cioè il pensiero unico di molte persone che vedono il progetto realizzato e si sta muovendo nel giro cioè quello che è accaduto in pochi giorni in poche settimane non è accaduto in tre anni perché dico questo perché comunque stamattina non posso non entrare nel discorso allora apriamo un'altra parentesi che ci sta visto che è connessa perché il sistema lavora così cioè come vediamo un attimino ecco scusate sono centinaia quindi quando beccare quella giusta cosa fa il sistema si prefigge un obiettivo a parte che è fatto da menti e hanno anche il controllo del tempo vedono il futuro vi può sembrare strano ma ve lo dimostro non è che sono fantasie quindi sono menti subdole purtroppo disumane quello che hanno studiato e attuato una persona normale un umano non potrebbe arrivarci mentalmente a pensare determinate determinate cose però succede che sempre anche per una questione del karma cosa fa? stabilisce un qualcosa e per attuarlo adotta un sistema in cosa consiste questo sistema? vedete qui per esempio nei Simpson del 2000 un cartone animato del 2000 un questo è un fotogramma ma è un video che stabilisce che Trump dovrà essere lo stabilisce e lo sa perché vede il futuro e ce lo comunica Trump sarà presidente nel futuro e qui c'è una scena poi è lui non si può dire che non è lui nel 2000 ci dicono perché è un cartone animato del 2000 vi facciamo vedere questa immagine sappiamo di questo c'è Trump che scende il cartone animato dove c'è Trump scende queste scale mobili alza la mano saluta il cartello è quello il cognome è il suo quindi niente da obiettare ma poi addirittura andiamo in un particolare vedete quel foglietto qui in alto a sinistra nel cartone animato non quello che tiene su in alto il secondo ometto ma quel foglietto dove c'è scritto VOT il primo mino a sinistra in alto quello a un certo punto nel cartone animato guardate caso cade cade per terra no? che è un dettaglio proprio già se confrontate con la parte destra è identico ma c'è un dettaglio beh quel dettaglio è che nella scena reale 2015 15 anni dopo che vedete in quel tizio sotto quel tizio con la camicia celeste quel cartello quel foglietto con scritto VOT cade nel momento in cui Trump transita davanti a lui quindi la stessa scena identica 15 anni dopo questo ve lo posso dimostrare in decine decine o centinaia di altre situazioni perché perché fa sì che la gente stessa crei quell'evento cioè milioni di americani che vedono questa scena diventano co-creatori della scena stessa quindi non c'è un'imposizione ma c'è una co-creazione da parte del pubblico perché mentalmente va a creare l'egregore che poi va a trasformarsi in realtà infatti se voi andate a vedere le illuminated card americane chi le conosce? le illuminated card carte da gioco americane da tavolo è una sorta di gioco del log non solo non solo allora voi pensate che le immagini che sono rappresentate in queste carte da gioco sono tutti gli eventi che sono capitati nei decenni a venire dall'11 settembre all'attacco al pentagono alla crisi economica alla a Fukushima tutti i grandi eventi sono rappresentanti in queste carte da gioco che uscirono in America 30 anni fa allora provate a immaginare milioni di americani che hanno giocato tante e tante di quelle volte a queste carte dove le impressioni sulle stesse creavano un pensiero unico dominante di quegli eventi che poi anni dopo si sono andati a verificare questa è una realtà che può apparire sconcertante ma l'elite funziona e applica questi metodi e funziona così compresa la crisi economica più vi bombardano di crisi economica più voi pensate alla crisi e più la crisi si alimenta anche questo è un loro metodo oltre a tutto il resto eccole qua queste sono alcune delle sono centinaia qua vedete le torri gemelle il pentagono il controllo del clima attentati vari nuovo ordine mondiale ce ne sono abduction aliene e quant'altro ma sono io qua ho fatto una selezione ma sono centinaia crisi della chiesa cattolica medicine vaccini e asteroide e quant'altro terra piatta guarda anche addirittura flat earth anche la terra piatta ma pensate poiché sia tonda piatta non è questo il punto però si parlerà della terra piatta l'avevano già previsto e hanno fatto in modo che si realizzasse esatto la morte di trump nei simpson è prevista non mi ricordo se è anche l'anno ma ce lo fanno vedere all'interno di una bara come vittima di un attentato è possibile noi possiamo cambiare la realtà ma nel momento in cui un certo numero di persone prende consapevolezza del gioco incomincia a operare diversamente ecco perché ci bombardano di informazione soprattutto attraverso i canali media in particolare in modo alla tv perché noi contribuiamo col nostro pensiero a realizzare quello che loro hanno in programma è già previsto nella loro agenda perché questa crisi colpirà tutti siamo troppi per loro non ci saranno figure che si salveranno tranne un'elite un vertice elitario di pochi a meno che non trovi soluzioni alternative quindi però abbiamo un secondo step che prevediamo di entrare in una blockchain in modo tale da poter scambiare anche con altre divise ufficiali quali dollaro e euro è però un secondo step una cosa alla volta non ci vuole molto l'importante è partire prima di tutto con la prima fase dove avremo la possibilità di registrazione e di scambio cosa fa il disoccupato se non entra in questo circuito e può esprimere le propie capacità scambiare con altri è tagliato fuori completamente ha tutto un interesse a entrare e poi anche gli altri quando che sono rimasti rimangono solo perché hanno magari la famiglia da sfamare ma non ne possono più quelli un po' svegli gli zombie gli zombie va bene stanno bene il problema è grosso perché io pensi cioè in realtà mi piace anche di lavorare sul risveglio prima mio ovviamente ma anche seminare è meglio seminare è meglio aiutare veramente perché la gente ascolta e dice come è meglio l'ho detto prima ma è per quello che dall'altra parte accelerano io vi invito a fare gruppo di lavoro qua è la stessa cosa che faccio ogni conferenza uno perché non possiamo seguirvi né noi né altri anche perché noi siamo gli unici che non fanno pagare tra l'altro non puoi dare la conoscenza e un aiuto ancora utilizzando gli strumenti del loro potere c'è gente che copia i nostri documenti e poi li vende ma sono problemi loro facciano quello che vogliono ma non possiamo materialmente aiutare direttamente nessuno perché siamo quattro gatti e o facciamo questo o facciamo i consulenti ma se facciamo i consulenti stiamo parlando d'altro però se voi vi unite io esorto a fare questo fate un gruppo e vi trovate se non avete sede lo fate a casa di qualcuno e vi spogliate finalmente di questo individualismo e allora crescete voi vi possiamo aiutare meglio noi perché una cosa è dialogare con uno quando effettivamente ve la siete studiata e non avete trovato la soluzione altra cosa è che ci chiamate magari in cinque potreste in realtà fare il gruppo invece ci chiamate isolatamente e poi vai a scoprire magari che non avete neanche letto le istruzioni o non ci avete dedicato quattro minuti del vostro tempo non funziona documenti e tutto ciò che c'è dietro i documenti poi stiamo lavorando per migliorare per dare altre soluzioni non solo quelle economiche anche per rapportarsi con il sistema e certo non si può comprendere ci ho messo anche io tempo per capire quello che era la stessa mia idea perché poi dice ma funzionerà non funzionerà via del gruppo perché i dubbi vengono no denaro è un sì del nostro tempo è una è una trasformazione del tempo in un in un valore scambiabile ma all'inizio è normale che le due cose coesisteranno ma guarda che anche l'euro prima di diventare l'unica moneta ci ha messo tre anni ed era del sistema cioè tre anni per abituare la gente hanno convissuto euro e lira ce n'è voluto perché all'inizio abbiamo fatto fatica a tutti e non era così cioè non è stato così semplice anche questo non sarà così semplice entrare nella testa della gente all'inizio ma una volta che prende piede non tanto farlo comprendere agli altri ma applicarlo la gente si domanda ma scusa cosa stai facendo non lavori dove lavori com'è che fai avere lo scambio ti viene l'idraulico gratuitamente perché l'idraulico viene a casa tua si paga da sé gli paghi i materiali ma i materiali ci saranno i negozianti che aderiscono che cominceranno a dire ok 20% del mio materiale lo vendo nel circuito della banca mondiale sovrana e il resto 80% ancora in euro ma man mano che tu prosegui fai affluire sempre più gente il sistema crescerà fino a che dovrà soppiantare necessariamente l'altro e come è successo con Auriti quando la maggioranza è entrata nel circuito quei pochi che erano fuori si sono trovati senza più clienti sono stati costretti anche loro nonostante all'inizio non volessero entrare perché erano convinti che non avrebbe funzionato che alla fine avevano i negozi vuoti e quindi sono stati costretti a entrare nel circuito e questo è l'obiettivo all'inizio saremmo quattro gatti certo in proporzione non saremmo neanche pochi in proporzione su 60 milioni è chiaro che saremmo pochi ma nel momento in cui la gente anche se sa domandarsi o capire come funziona vede che qualcuno sta meglio di loro gli verrà il dubbio e la voglia di chiedere di fare una domanda eh? ci sono dei contributi per chi non può ci sono dei contributi come succede anche oggi come dovrebbe essere chi non può lavorare avrà un reddito comunque garantito e dobbiamo stare dobbiamo vivere tutti sereni si assomiglia sotto alcuni aspetti sì sotto alcuni aspetti sì sul discorso vendita e quant'altro è completamente diverso perché non c'è un transito di valore c'è un decurtamento e questo fa sì che il livello energetico è sempre costante non c'è né inflazione né deflazione grazie a tutti grazie a tutti